Sì, è vero, sicuramente gioca tre partite in una settimana, poi non erano sicuramente tre partite semplici, ha fatto sentire un po' di stanchezza nel finale, anche se proprio nel finale magari si poteva anche rischiare di vincerla, quindi credo che le tre partite le hanno giocate anche gli avversari, ricambiando qualcosina in più rispetto a noi, però credo che abbiamo ottenuto bene il campo con intelligenza in tutte queste tre partite e non a caso sono arrivati sette punti, comunque sono un bottino importante. Questo fa piacere, detto sicuramente dal mister, ma credo che magari in base al momento, in base alle partite, in base alla condizione fisica di ognuno di noi, poi lui faccia le sue scelte, non è detto che magari in futuro possono esserci scelte diverse, ma comunque noi come Rosa, come gruppo di giocatori siamo ottenuti e abbiamo il dovere di farci trovare sempre pronti, in questo momento tocca a me e a Appelt e cerchiamo di interpretare il ruolo nel miglior modo possibile, cercando di dare equilibrio alla squadra, cercando di lavorare bene aiutando la difesa a turno a non scoprirsi e cercando di appoggiare i nostri attaccanti, in questo momento le cose stanno andando discretamente bene, quindi bene così insomma.